Ho trovato gli occhiali, però se li perdi io già sono pronta con un bel fioccone. Eccoci qua ragazzi, oggi una festa in questo fantastico posto, questo gioco si chiama Paintball. Adesso ragazzi, ho un problemissimo, ma fermatevi, in realtà con questa tuta volta nel casino, non si chiudono le porte, è pieno di gente, vado per chiudere questa, ma non va. Bene, ma dico ok, vado nel bagno, vado questo, e se riapro, il problema è che la tazza è anche dove solo uno lo teneva con la mano, ma non c'ho il braccio così lungo. Soluzioni? Non solo, ma questo bagno è un open space, dammi la mano, cioè, praticamente, niente, come fare una pipì in tanta fascia e spiegare... Sì, mi è venuto in mente come, questo lo facevo al GF, ecco.